Giuseppe! 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 Riuseppe! Giuseppe! Giuseppe! Ragazzi adesso stiamo riprendendo la diretta, vi chiedo l'applauso e poi entro con due, dai, basta. C'è solo un coro voglio io, un direttore, c'è solo un direttore, un direttore, c'è solo un direttore. C'è un problema, l'evento, adesso c'è Barisoli, va avanti fino alle 20.45, è stata annullata la zanzana. Grazie.